I feel it, I feel it, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. I feel it, I feel it, that tonight's gonna be a good night. FC Bari 1908, dell'Academy, della FC Bari 1908. Buon pomeriggio Marcello. A te Cristian e a tutti i nostri telespettatori. E poi quello che possiamo considerare il nostro inviato speciale come tiposo, perché ha seguito tutte le trasferte ed era anche a Gela su quella palazzina pericolante, l'abbiamo descritta noi. Buon pomeriggio Silvano. Buon pomeriggio Cristian, buon pomeriggio a tutti. Ora me la racconterai quella avventura, perché è davvero stata una trasferta particolare. Noi abbiamo visto la gara a bordo campo dietro una recinzione, quindi forse l'avano vista meglio loro. Abbiamo visto la parola rossa. Sì, è vero, è vero, è vero. Per una porzione di campo facciamo fatica a vederla. Abbiamo anche delle foto particolari che comunque ci hai portato. Marcello però entriamo subito nel tema della gara tra Bari e Nocirina. Ieri Cacioli l'ha definito un viatico importante, fondamentale per il campionato del Bari. Sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Arriva alla culmine di questo periodo con una partita infrasettimanale e con le dirette concorrenti al vertice, quindi condivido con il pensiero di Luca Cacioli e una partita, un crocevia. Di qui poi in avanti ci sarà un calendario un po' più agevole e quindi avremo una concorrente in meno. Giochiamo in casa, una Nocirina che è stata costruita insieme al pari della Turris per ben figurare tra i vertice di questo campionato e quindi è una partita da prendere con le pinze. E allora stiamo vedendo anche la classifica del campionato. Non a caso la Nocirina è lì in terza posizione a 22 punti con il Marsala. Non molla ancora la Turris, sono a quota 24 se lunghezza da Bari, però magari è il momento anche di provare a dare un deciso stacco. Sì, perché la Turris è un ottimo organico, l'abbiamo vista qui a Bari, anche se quella traversa di Brienza ancora trema, lì avrebbe creato il giusto divario con le altre... Brienza continua con le terapie, sicuramente non ci sarà per la gara con la Nocirina, la speranza è di poterlo recuperare al più presto. La verità è che appunto quella traversa, dicevo, mi soffermavo su quella traversa, ha fatto la differenza, perché se fosse entrata quella palla avremmo avuto lo stesso distacco che poi abbiamo avuto con l'Ocri, con il Marsala e mi auguro con la Nocirina. Però bisogna dare merito alla Turris che ci sta credendo fino in fondo, ha un ottimo organico e sta tenendo un passo veramente molto importante. Ciò non significa che il Bari non stia facendo altrettanto, anzi ha una continuità di rendimento non indifferente, sta crescendo anche come organico, come gioco più che altro, e si è calata in tutte le sue unità nella categoria. Questa è la cosa più importante, perché all'inizio un po' si era steccato l'approccio alla gara, invece sto vedendo che in questo momento c'è continuità, c'è un equilibrio sia tattico che soprattutto mentale nell'approcciare a partite delicate come l'ultima di domenica che stiamo vedendo. E allora, siamo in attesa di Nicola Turi per l'intervista flash con Barbara Cirillo dal campetto dell'antistadio, per intanto Silvano, visto che stiamo vedendo anche delle immagini della gara contro il Gela, ti chiedo anche che trasferta è stata, ora vedremo anche delle foto particolari che rappresentano quella che è stata la trasferta. È stata sicuramente una trasferta particolare, siamo partiti praticamente sapendo che molto probabilmente non saremmo riusciti a salire lì sulla terrazzina, quindi ti lascio immaginare. Poi per fortuna, insomma, a dire il vero, siamo stati anche ospitati molto molto bene dal... Intanto vediamo delle foto, voi eravate in una posizione molto molto particolare, no? Un balconcino senza parapetto si rischiava quasi di cadere, pericolosissimo, noi lo vedevamo dal campo e davvero incuteva assoluto timore. Infatti, infatti. No, e ripeto, l'accoglienza che abbiamo avuto è stata ottima, perché addirittura... Però Silvano, facciamo così, ti interrompo un attimo, perché dobbiamo correre, perché tra poco c'è l'allenamento del Bari, quindi Cornacchini non vorrei che poi redarguisse Nicola Turi e ci colleghiamo con Barbara Cirillo dal campo dell'antistadio. Barbara, a te. Sì, buon pomeriggio Cristian, non facciamo arrabbiare il mister, infatti è qui pronto con me Nicola Turi, pronto ad allenarsi, innanzitutto benvenuto. Grazie, grazie. Porti alta la bandiera della città, sei l'unico barese in squadra. Sì, sì, è un gran piacere questo qui, speriamo di continuare nei prossimi anni a stare qui, perché si sta benissimo e poi, vabbè, chiunque vorrebbe stare nella propria città a giocare. È casa tua, infatti tu sei partito proprio dal Bari, no? Hai sempre indossato la maglietta del Bari, tranne una parentesi a Vicenza. Questo si chiama attaccamento alla maglia, quei colori non te li vuoi togliere di dosso? Ho iniziato qui il settore giovanile col Bari, poi l'anno scorso sono stato impresso a Vicenza e quest'anno sono tornato qui, cioè sono molto contento. Come ti dicevo prima, speriamo di continuare i prossimi anni con questa maglia qua, perché è bellissimo stare qui. Hai vissuto tutte le fasi del Bari, noti una differenza, soprattutto nella piazza, nei tifosi, nella città, tra gli scorsi anni e quest'anno? Vabbè, quest'anno è stata anche una sorpresa vedere tutti questi abbonati, perché in Serie D non ce l'aspettavamo, però super giù sapevo che i tifosi avrebbero continuato a seguirci, a sostenerci. Tanto è arrivato un pallone sulle camiglie, ma non fa niente. Allora, mamma e papà che dicono? Vabbè, sono contenti che sto qua a casa e poi quando vengono allo stadio e vedono che gioco, che gioco, cioè sono contenti, ecco, molto contenti. Senti, so dei tuoi compagni che lo zoccolo duro che è rappresentato poi dai colleghi napoletani sta un po' influenzando tutti, visto che porti alta la bandiera di Bari, sta insegnando un po' di barese ai tuoi compagni? Beh, sì, lo sanno parlare bene loro, però ovviamente non come noi, però dai, pian piano impareranno bene. Impareremo sicuramente a conoscerti meglio poi nelle prossime puntate, intanto ti lascio allenare, grazie, in bocca al lupo per questa partita con la Nocerina. Grazie mille, crepi il lupo. Ciao. Studio. E allora un grazie a Barbara che ha rischiato grosso perché hanno provato a colpire, o Turi o Barbara o qualcuno che ha sbagliato Mira, Marcello. Ma secondo me la Mira l'hanno azzeccata perché solitamente quando ci sono quell'intervista a bordo campo e di comune, insomma, accordo, magari mettere in difficoltà chi sta facendo l'intervista e quindi magari è una pallonata calciata appositamente. Barbara Cirillo, se l'hai cavata la grana, hai continuato tranquillamente l'intervista. Barise Doc lo conosci, Nicola, tu li sta ben comportando nel ruolo di terzino-destra. Assolutamente, devo fare i complimenti a Nicola perché era appunto nella primavera quando ero io nel Bari e non è stato facile per lui perché aveva scalera al davanti che era il giovane di prospettiva, la società aveva un po' individuato lui nelle gerarchie come ragazzo da portare avanti quindi lui ha avuto l'arduo compito di non demoralizzarsi, di lavorare, di continuare ad andare avanti e vedi alla fine è stato premiato, è l'unica bandiera bianco-rossa che è nella rosa della prima squadra e quindi porta avanti la baresità che un po' scarseggia se proprio vogliamo trovare il perone e l'uovo di questa rosa molto competitiva. E allora al volo un ascoltatore perché poi dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Pronto chi c'è in linea? Ciao Cristian, sono Pino Pinto. Ciao Pino. Un saluto ai tuoi ospiti. Ciao Pino. Una domanda al mio amico Silvano, a Bruciapello. Hai provato più emozione domenica su quel balcone fatiscente di gelo oppure oggi in trasmissione al TV Sport. Grazie, buona giornata. Allora facciamo così Silvano, devo andare in pausa pubblicitaria, quindi congela la risposta e poi rispondiamo anche a Pino, tra poco. Rieccoci insieme con Marcello Sansonetti e il tifoso Silvano. Silvano, dovevi una risposta però all'amico tifoso Pino Pinto. Ma sostanzialmente sono più emozionato perché c'è Cristian. Sono emozioni diverse. Con tutto il rispetto avrei preferito Barbara Cirini. Ma assolutamente, sono d'accordo con te. Come la ritorno. Infatti, infatti, infatti. Allora facciamo così, dobbiamo correre. Allora tra poco ovviamente continuerai a raccontarmi quella che è stata la tua avventura a Gela, però siamo pronti anche per ascoltare un breve strato della conferenza di questa mattina di Simone Simeri. Sentiamo. Soprattutto quando la vallava dentro. Però, sì, diciamo che per noi attaccanti è la cosa più importante, fare gol, soprattutto per dare una mano alla squadra a portare la vittoria a casa. Ma non deve essere un'ossessione. Quindi perché se diventa un'ossessione, poi dopo è dura uscirne fuori. Perché può capitare che comunque viene un periodo dove non va in rete. Mi è capitato anche a me. Quindi è un po' sbagliato al dito, no? Sì, sì, vabbè, ma ci sta, è normale. È il mio mestiere. Però ti ripeto, non deve essere un'ossessione, non deve essere una priorità. perché la cosa più importante è vincere, a prescindere da chi fa gol. Quindi il nostro obiettivo è un altro, quello di andare, di vincere quanto il prima possibile il campionato. Perché non mi nascondo, non ci nascondiamo ed è quello il nostro obiettivo. Ecco, io faccio 5 gol, 5 gol, se ne sono soddisfatto a me tanto. Non c'è, non sono soddisfatto perché avrei potuto fare tanto. Ne sono consapevole, però ti ripeto, quest'anno come quest'anno non mi sono, diciamo, prefissato un obiettivo ben preciso a livello di gol, cioè a livello personale. Abbiamo tutti, abbiamo scelto di scegliere questa causa per un obiettivo comune. Quindi quanti più gol riesco a fare per me è un bene, è un bene per la squadra, è un bene per la società. Ma ti ripeto, come ho detto già prima, non deve essere un'ossessione, perché può capitare a un periodo dove non riesce ad andare in rete. Paolo? Su quel periodo un po' no. Sì. A questo punto tra il nostro ingesto, dopo il gol dei loteri, di sconare la vostra cosa, cosa significa? Ma, ti ripeto, non è facile per un attaccante non andare in rete. Soprattutto per un attaccante come me, che comunque cerco di dare sempre il 100%. Non mi risparmio mai, sono sempre a disposizione della squadra. Allora, quando vedi che dai tutto, vuoi anche magari qualcosa pure nel tuo personale. E ci sono state, non critiche, perché comunque quelle fanno pure bene. Fanno bene. E allora, questo è un breve strato della conferenza stampa di Simone Simeri, poi magari mostreremo in maniera più ampia anche nel corso dei nostri notiziari sportivi. Ti chiedo anche un giudizio, poi sull'attaccante, anche da ex attaccante, Marcello. Per il momento è il bomber del Bari con 5 reti. È il bomber del Bari, quindi si comincia a delinearsi proprio la sua figura. Ha fatto un'intervista giusta, magari è un po' politically correct, quindi è giusto che sia così. Meglio vincere che far gol. Però lui è un po' penalizzato perché lui è una seconda punta che gioca come prima, ha tutte le caratteristiche tecniche per fare anche la prima punta, soprattutto in questo campionato. Dovrebbe essere un po' più cinico laddove la partita si è sbloccata, nel essere anche un po' egoista per far gol. Cosa voglio dire? Che nel sbloccare la partita magari non lo aiuta il fisico, cosa che avrebbe potuto una punta centrale avere più possibilità. Però laddove si sblocca la gara, lui col suo fisico, rapido, comunque forte fisicamente, ha nelle sue corde di riuscire a sfruttare questi spazi che si creano. Qui tecnicamente è bravo, è pronto, quindi mi aspetto qualche doppietta, qualche gol in più laddove la partita si è sbloccata. È vero anche, concludo, che abbiamo trovato delle difese molto arcigne, compatte, che giocavano a 5, alcune anche a 6. Non è facile, non è stato facile, soprattutto perché non abbiamo sbloccato subito la gara. E mi auguro, qui in avanti, con un calendario un po' più accessibile, che lui possa fare anche una doppietta, una tripletta, insomma, per prendere l'A e staccare la doppia cifra. Vai, vai Silvano, certo. Non lo vedresti meglio in una 4-4-2, per esempio, come seconda punta? In coppia magari con l'altro centravanti, Pozzebon? Sì, approvato. Perché come caratteristica penso che sia... Ha provato il mistero anche a farlo giocare in coppia con Pozzebon, però bisogna mantenere gli equilibri tattici di una squadra che sta investendo tempo, allenamenti, risorse in un modulo, che è il 4-2-3-1. Abbiamo tre quartisti, mezze punte, esterni in abbondanza e sono tecnicamente fenomeni per la categoria. Parliamo di Orienza, di Floriano, Meglia. Quindi per fare una scelta di un 4-4-2 tu dovresti mettere fuori due, tre di questi elementi che ti fanno la differenza, no? Io come allenatore non lo farei mai, preferirei alternare magari come sta facendo... Simili e Pozzebon. Simili e Pozzebon nella figura del centravanti, piuttosto che privarmi di quelle figure tecniche che poi saltano l'uomo, ti creano movimento lì davanti. Insomma, penso di aver chiarito. Per aver risposto in maniera sorrenta. Abbiamo sì un ascoltatore in linea, pronto? Buonasera, saluti ai giochi. Pronto? Faremo la decima vittoria. Eh, non riesco a sentirti purtroppo. Proviamo a ricollegarci 085019998, il numero per intervenire in diretta. Silono, ma ti sei affezionato qualcuno di questi calciatori? Hai imparato a conoscerli? Vabbè, come non posso essere affezionato a Ciccio Brienza, no? Eh, dico, a parte Brienza, Brienzalo. Brienza escluso. Brienza escluso, soprattutto di tanti calciatori che magari erano meno conosciuti. Ma sì, c'è qualche calciatore che a me piace particolarmente. Certo, non li conosco come la vecchia squadra, perché sai che loro frequentavano il mio studio e quindi... Eh sì, avevi un contatto diretto con loro. Sì, con alcuni di loro c'era anche addirittura amicizia. Ti senti ancora con qualche giocatore di quel pari? Sì, sì, Daniele Schaudone, Romizzi, Marino Defendi, insomma, con loro continuo ad ascoltarli, continuo a sentirli. Facciano parte di quel famoso Bari della remuntata. Sì, sì. Niente, preferisco veder giocare Floriano. A me Floriano piace molto. Salta l'uomo, è veloce, è rapido, insomma, crea la differenza. Stai conoscendo posti nuovi, comunque, alla fine stiamo praticamente invadendo la Sicilia, no? Infatti, infatti. Che situazione hai trovato, Silvano? Come si svolge, no, diciamo, la tua trasferta tipo in terra siciliana? Poi torniamo proprio a quella di Gela. Senti, non ti nego che principalmente viene, diciamo, facciamo delle gite culinarie, no? E immagino. Principalmente. Noi abbiamo meno tempo per fare, con i tempi strettissimi per il lavoro, voi avete anche tempo per girare. E infatti, devo dirti che, sinceramente, in Sicilia abbiamo scoperto veramente dei piatti veramente molto, molto gustosi. Non ho dubbi su questo. No, sulle trasferte quelle lontane abbiamo preferito pernottare lì. Quelle un po' più vicine, sai, si fa in giornata. Nel caso ci mi hanno dato spesso dei video, accoglienza sempre positiva da parte delle tifosiere avversarie, quindi sempre massima cordialità, no? Ma, guarda, non ti nego che loro ci vedono come la Juve, no? E' così, arriva il Bari, un evento. Sì, 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 loro reputano un vero e proprio evento. Quindi, quando ci accolgono, sanno già, insomma, della forza della squadra. Quindi, spesso e volentieri, ci accolgono sempre con affetto, devo essere sincero. Vediamo se abbiamo recuperato il nostro ascoltatore. Pronto chi c'è in linea? Pronto, buonasera. Buonasera, un saluto agli ospiti. Comunque, faremo la terza vittoria con la Nocerina, la decima di campionato. E poi un saluto agli ospiti. Siamo la Juve del Sud, noi. Vabbè, siamo in Bari, dai. E' un'associazione che vive in facile, è una battuta che fece lo stesso Ancelotti al presidente Luigi De Laurentiis. Quindi non l'ha preso benissimo, ovviamente, in maniera simpatica. Però è così, comunque siamo la squadra a battere. Dai, dal tifoso del Bari non voglio essere associato alla Juve, diciamolo. Però siamo la squadra a battere in questo campionato. Questo è un dato di fatto. 9 vittorie, 3 pareggi, con la possibilità di toccare anche la decima. Non era facile, rimarco e sottolineo, non era facile avere questo approccio a questo campionato dilettantistico con la pressione che si sviluppa su una piazza del genere. E bisogna dare merito alla società in primis perché ha costruito una rosa veramente notevole, di spessore. Anche in poco tempo? In pochissimo tempo, allo staff tecnico, al mister che ha nelle sue corde una serenità e una vision del campionato. Tra poco ti chiederò anche una parere, proprio anche sulle scelte di mister Cornacchini. Allora facciamo così, prendiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Ciao Cristiano, sono Mauro Giovanni. Ciao, buon pomeriggio. Mi sento Cristiano, sono strambelli, facciamo un passo avanti, che è un giocatore di serie superiore. Grazie, grazie. Si riferisce al mercato di dicembre, magari comprare qualche calciatore già pensando alla prossima Serie C. Marcello, intanto con la squadra sta allenando Edoardo Bianchi, difensore classe 99, svincolato dal Torino, tesserabile dal 6 dicembre. Un passo alla volta, abbiamo fatto, ripeto, un grande approccio a questo campionato. Adesso dobbiamo battere il ferro, dobbiamo delineare le graduatorie e quindi dobbiamo vincerlo quanto prima, poi si può iniziare a pensare alla Serie C. Non da adesso, sarebbe un errore gravissimo perché si andrebbero a rovinare determinati equilibri che non è stato facile creare. Quindi se il mercato dovesse portare qualcosa, immagino lo porterebbe a livello di under perché ci sono degli under che siedono in panchina da sempre, però non hanno mai giocato e immagino che se non hanno avuto la chance è perché il mister non li ha ritenuti all'altezza, ancora pronti. Quindi è lì che vuole intervenire e poi ci sono un paio di grandi che anche loro non stanno trovando minutaggio e quindi magari potrebbe sostituirli con delle pedine più efficaci nel suo modulo. E allora dobbiamo andare in posto pubblicitario, poi riavogiamo il nastro Silvano e mi racconti quella che è stata la tua trasferta a Gela. Tra poco. Ultimo spazio del bianco e loroso TV Sport con Marcello Sansonetti e il tifoso del Bari Silvano. Diversi messaggi anche sotto la nostra diretta Facebook. C'è chi ci scrive Silvano come Antonio Di Gennaro, no? Però non ti hanno pescato nessun fuorionda, credo. No, per il momento non ancora. Per il momento no, e ne approfitto anche per chiedere un tuo parere. Ieri è stato beccato in quel fuorion del nostro amico Antonio Di Gennaro. Sì. Diceva squadraccia. Non che... Hanno pensato fosse riferito all'Inter, poi attraverso un posto lo stesso Antonio Di Gennaro ha specificato che invece era in riferimento alla squadra del suo ex... Sì, allenatore Terim, lui è stato secondo di Terim alla Fiorentina, poi al Minan e ha seguito le vicende del Galatasaray da vicino. Quindi Antonio nonché presidente della Procalcio Bari, la scuola calcio. Niente, lui si riferiva al Galatasaray, chiaramente quando è un fuorionda è facilmente interpretabile da chiunque. È perché si sentiva solo squadraccia. Però lui ci ha tenuto a chiarirla questa situazione come giusto che fosse perché si è scatenato veramente il putiferio sui social. Eh sì, intanto ci chiedono, Brienza come sta? Sta ancora facendo terapia, quindi i tempi di recupero ancora da verificare. Di sicuro non ci sarà per la gara contro l'Oncerina. E poi c'è Andrea che ti chiede, Silvano, saluta la quarta F. Sì, 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 la mia classe delle superiori. Sì, sì, ci stanno ascoltando perché sono molto tifosi del Bari. Chiede anche di farti la barba. Si parla di influencer. Eh sì, ti chiedono anche di condurre la domenica sportiva. Quindi funziona, funziona. Abbiamo un ascoltatore in linea, poi mi racconti anche la trasferta di Gela. Ci siamo? Pronto? Pronto? Eh no, non siamo fortunati questo pomeriggio con le telefonate. Allora, io riproporrei quelle foto che ci hai portato anche per completare il racconto precedente, di quella che è stata la tua avventura a Gela, anche come poi sei riuscito a guardare la partita dal terrazzino di quella palazzia in costruzione. È pericolante, aggiungerei, perché era davvero pericolosa. Noi siamo arrivati, come ti dicevo, dal giorno prima e abbiamo pernottato lì e poi il giorno dopo ci siamo incontrati, abbiamo contattato una parte della tifoseria del Gela e chiaramente abbiamo chiesto di poter assistere alla partita. Come dico sempre, Cristian, andare in punta di piedi e chiedere permesso è sempre la miglior cosa, perché poi loro in effetti hanno capito le nostre buone intenzioni, quindi hanno consentito a farci guardare la partita. Queste foto sono da brividi però, perché poi sotto c'è il vuoto. C'è il vuoto, sì, c'era una decina di metri. Voi eravate proprio lì? Sì, sì, sì. Si vede nell'immagine, io sono quello seduto vicino a quello con la tuta bianca e rossa. Quanti eravate da Bari? Noi eravamo 12, noi tre macchine e siamo partiti per Gela. No, l'esperienza è stata veramente bella. Guarda questa foto. Sì, 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 è stata veramente emozionante. Ma al gol di Siberi nessuno ha rischiato di finire giù. Abbiamo preferito non esultare. Avete fatto pinta di niente, ci hai portato, abbiamo mostrato anche martedì un video, magari ora lo vediamo, un video del gol ripreso dal terrazzino. Avete preferito o no non esultare? Rigoroso, silenzio. Ci stava, insomma, a mostrare rispetto per la tifoseria avversaria. Anche perché lì è un attimo. Proviamo a scherzarci, però la speranza è davvero di non trovarci più in situazioni del genere. È davvero una sconfitta per tutti i movimenti. Io penso che sia la morte del calcio, anche per i tifosi del Gela stesso. Insomma, sono da più di un anno quasi senza campo, senza spalti. È mortificante per una tifoseria non essere lì presenti. E allora, intanto ci saluta Daniele, credo... Ah, mio cugino. Il tuo cugino, sì, che conosco bene anche perché abbiamo giocato insieme a calcio. Approfitto per salutare suo padre, Zio Vito. Visto che c'è un suo Marcello, se hai qualche saluto da fare, approfittane ora. Non sono così social come... Nel caso, avevo per te una domanda di sospeso su Mr. Cornacchini, e soprattutto su quelle che sono state, Marcello, le sue scelte nella gara contro il Gela, perché poi ha deciso di mettere in panchina gente come Brienza, Amlini, però poi alla fine ha avuto ragione lui. Sì, ecco, di Brienza ormai era un dato di fatto. Lui in fuoricasa magari lo preserva, fa prima far legna a quelli un po' più giovani, e poi mette la sua indubbia qualità nel secondo tempo. Per quanto riguarda la scelta di Amlili, mi ha stupito inizialmente, devo essere sincero, però poi l'ho apprezzata molto perché aveva un senso logico e strategico. Ha preferito mettere Matera sull'uomo di qualità in più che aveva loro. Sì, su Alma, che era il loro capocannoniero. È vero che una squadra come il Bari deve avere una propria identità, però è vero anche che quando vai fuori casa in partite delicate è giusto attuare delle strategie per permettere di agevolare la gara. Amlili è uno dei miei preferiti, se devo essere sincero, è un centrocampista di quantità e qualità che lo vedremo per parecchi anni, secondo me con la maglia bianco-rossa, però è giusto che quando un allenatore ha delle idee ben chiare in testa... Poi se l'Angella, che sostituisce Amlili, fa anche i gol, quindi meglio di così. L'Angella è un altro giocatore under che mi ha stupito inizialmente, però poi mi ha stupito la panchina che ha fatto ai danni di Piovanello, che è entrato inizialmente, quindi devo dire che ha avuto una nuova chance, ha fatto un altro Euro-goal, il secondo di questo campionato. Devo dire che questi under si stanno veramente ben ritagliando uno spazio importante. Poi Marfell è il portiere della migliore difesa d'Italia dalla Serie A alla Serie D, per il Bari ha subito solo quattro reti. Sì, ora gli hanno messo il carico di Mannini sopra, l'hanno anticipato un po', cioè dovrebbe passare quattro, minimo cinque partite per superarlo, insomma, senza prendere gol. Ce le auguriamo tutti, però tocchiamo ferro chiaramente. Assolutamente sì. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buonasera. È l'imitatore, è l'imitatore. Io ho saluto agli ospiti e volevo dire che il Bari domenica gioca in casa con la nocerina e vincerà. Bene, 3 a 0, perché l'originale dice sempre 3 a 0. Pronto, Cristiano, sono Mauro Giovanni. Pronto, Cristiano, sono Mauro Giovanni. Grazie per il tuo intervento. Ci sono anche gli imitatori degli ascoltatori, quindi accade tutto, però non era male come imitazione. Silvano, nocerina poi trasferta finalmente agevole perché si va a Portici vicino Napoli. Agevole, diciamo, agevole tra virgolette per quanto riguarda il viaggio. Poi è chiaro che si affrontano realtà sempre particolari. Certo, certo. La trasferta di Portici l'abbiamo organizzata addirittura con le mogli. Ah, è vero, ci sta. Anzi, saluto quella poveretta di mia moglie che mi sopporta in queste, Gabriella. A casa, veramente, tu hai salutato tutti, tra me, scoppiato un caso. Comunque, quale delle trasferte ti incuriosisce ancora? C'è ovviamente quella famosa di Troina. Quella di Troina, sicuramente. Prima di Pasqua, si giocherà di giovedì quella con il Troina. Sì, infatti dovremmo organizzare anche il lavoro in maniera tale da poter... Eh sì, intanto stiamo vedendosi il gol. Sì, questa è praticamente l'immagine, è stata filmata dal cellulare di un mio amico, a dire la verità. Abbiamo beccato proprio il gol, infatti si sente... Sì, sì, si sente. L'ho chiamato proprio il gol. Ha segnato il Bari, per amore. Quindi c'è Troina e poi quale altro trasferto? Comunque le farei tutte, su questo non ci sono dubbi. Sì, vabbè, poi si ritorna a Castrovillari contro... Ora non ho... La squadra che gioca a Castrovillari, perché è al campo inagibile pure, quella in Basilicata, se non sbaglio. Vabbè, una vale l'altra, Cristiano, noi tanto ci saremo. Eh sì, la speranza è che ci possano essere tutti i tifosi biancorossi, senza limitazione. Volevi fare sì, proprio a questo proposito, un breve appello che qui siamo quasi in chiusura. Sì, 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 volevo dire che si è puntato troppo il dito contro i tifosi del Bari per gli scontri di Messina. Ti posso garantire che non è così, perché lì la polizia ha esagerato, ha proprio esagerato e ha colpito anche un tifoso senza motivo. Tu ripresenti e ripresenti il tifoso. Sì, e quindi mi sento di dover giustificare i tifosi. Certo, la reazione non è mai... Eh no, è chiaro che se poi comunque reagisci in un certo modo alla polizia, ovviamente poi ti metti a rischio. Sì, questo sì, però Cristiano, ad esserci, insomma, era così, insomma. Al volo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, saluto al volo, saluto agli ospiti. Ciao, buon pomeriggio. Sì, quindi, prevenso ovviamente che di questioni tecniche, sinceramente, almeno a me come tanti altri, sinceramente non va di parlare perché veramente mi sembra riduttivo. Infatti, diciamo, il commento che faceva con De Cesare e anche Bozzoni, cioè ragazzi, ma quando vediamo questi campi, cioè queste situazioni, cioè veramente uno prova lo scoramento. Cioè, lo so che siamo calati in questa situazione, però per i giocatori professionisti, cioè non è facile. Io queste immagini le ho sempre viste per anni, interessandomi come altri ai campi... A realtà minori, purtroppo ci toccano. Cioè, magari fanno... Cioè, in quel momento, in quella situazione non ci fai tanto caso, però fanno sorridere. Però ragazzi, cioè veramente... Cioè, trovare delle motivazioni oltre a quelle, diciamo, per fare risultati è difficile. Un'ultima cosa, veramente. Quindi un plauso, un plauso veramente ai giocatori, specialmente per gli anziani, quelli più anziani esperti. Veramente un plauso che si sono calati in questa situazione, veramente. Un'ultima cosa per il mister Sansonetti. Per i campi di gioco, appunto. Visto che è capitato qualche puntata fa che lui di Bari dice che il campo non è una scusa, non è una cosa che deve fare male la differenza. Scusa, ma se tu hai giocato, hai giocato anche a certi livelli. Cioè, se giochi, per esempio, il Bari che gioca allo stadio, non dico su un biliardo, ma quasi. Cioè, quando vai a giocare su altri campi e sono tutti diversi, ma lo trovi nel campo di patate. Siamo in chiusura. Comunque grazie, è chiara la tua domanda. In 30 secondi, Marcello, la risposta. Il concetto è chiaro. Il campo, dico, non fa la differenza perché in quell'occasione è stato sbagliato l'approccio alla gara. Se tu non ci metti la massima determinazione, può esserci anche un campo bellissimo, c'è una squadra più agguerita di te, vai in difficoltà. Era quello il concetto. Poi, su un campo poco agevole, uno se la affronta bene la gara, la mette subito nelle condizioni di portare a casa i tre punti. Ecco, giusto, rapidamente. Per quanto riguarda il concetto precedente, hai fatto bene a rimarcarlo. È un grande complimento che hai fatto alla società e all'allenatore perché, appunto, gente che è abituata a fare il professionismo, andare su questi campi, non è facile. Siccome lo stanno facendo, lo stanno facendo bene, bisogna fare un plauso a tutti quanti perché hanno centrato l'obiettivo, almeno per il momento, è quello giusto. Grazie Marcello Sanzonetti e Silvano. Vi ricordo che domani nel BND Gang alle 8.40 in diretta telefonica con Enzo Tambora ci sarà il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, quindi la possibilità anche di dialogare con lui. A domani invece con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.